Sei alla ricerca della famigirata QQBANG di Lello 6 ma non sai come ottenere la Supercapsula ZMix online o offline che sia? Questo è il video per te. Ciao, io sono Yadita. In questo video vedremo in modo approfondito cos'è la Supercapsula ZMix, come ottenere la Supercapsula ZMix online, come ottenerla velocemente e come ottenerla offline. Importante, vi invito ad entrare nel server Discord dedicato a Dragon Ball Xenoverse 2 tramite il link lasciato qui sotto nella descrizione o nei commenti. Cerca giocatori informazioni rilassati all'interno del server. Buona visione! Cos'è la Supercapsula ZMix? La Supercapsula ZMix è un potente oggetto di livello 6, utilizzabile come composto mix. Questo potente oggetto permette di migliorare notevolmente gli attributi delle QQBANG e renderle di livello 6. Non sapevi dell'esistenza delle QQBANG di livello 6? Non preoccuparti! A differenza dei creatori di Xenoverse, qui c'è Yadita ad informarti. In alto a destra dovrebbe essere apparsa un pallino. Cliccandoci vedrai il link che conduce al mio video su cosa sono e come creare la QQBANG di livello 6. In alternativa ti lascio il link anche nella descrizione e nei commenti. Come ottenere la Supercapsula ZMix online? Quando spawniamo a Conton City, sulla sinistra è presente un bot chiamato modalità multigiocatore. Questo bot permette di effettuare missioni parallele ed esperto consecutivamente ed è anche un ottimo menu per avviare determinate attività rimanendo allo spawn, senza regarsi in posti specifici. L'unico requisito richiesto per poter mettere pronto e iniziare le missioni è che ci sia almeno un altro giocatore nella lobby. Oltre a tutto questo, le ricompense delle missioni parallele ed esperto danno sempre medaglie PT. Più giocatori sono presenti nella lobby, maggiore sarà il numero di medaglie PT. Infine, oltre ai drop normali, è possibile anche ottenere la Supercapsula ZMix e la sua antecedente Supercapsula Mix. Come ottenere la Supercapsula ZMix velocemente? Sempre tramite l'utilizzo del bot in modalità multigiocatore, ci sono due missioni avviabili che consiglio per ottenere la Supercapsula ZMix velocemente. La prima, ovvero la più veloce, è una missione parallela, più specificatamente la numero 83. La prima condizione di vittoria per questa missione richiede il recupero delle tre sfere del drago sparse nella mappa. Perciò per completarla velocemente vi basta ignorare Broly, che tanto sarà occupato con Videl, recuperare le sfere, e consegnarle. Mediamente si piegano dai 30 ai 40 secondi. La seconda missione è invece una missione esperto, la numero 16. Questa missione è molto popolare, poiché viene spesso utilizzata per farmare medaglie Pt. L'obiettivo è sconfiggere Vegeta, che usando le mosse adatte diventa veramente semplice e veloce da abbattere. In questo caso ti lascio il video su come farmare medaglie Pt con questa missione, dove spiego anche le migliori mosse da usare. Questa missione, oltre ad un numero elevato di medaglie Pt, dà anche molte monete, exp, e la possibilità di droppare la supercapsula Z-Mix e il cristallo degli inferi. Mediamente si impiegano dai 50 ai 60 secondi. Come ottenere la supercapsula Z-Mix offline? Per ottenere la supercapsula Z-Mix offline abbiamo due metodi. Il primo metodo è quello di craftare noi stessi la supercapsula Z-Mix. Per farlo basta regarsi nell'area degli acquisti a Canton City e interagire col bot chiamato Negozio Mix. Il negozio Mix dispone di due metodi di craftaggio, Manuale, mix da materiali, e Automatico, mix da ricetta. Utilizzando il mix da materiali sceglieremo manualmente gli oggetti da fondere, mentre col mix da ricetta ci viene mostrata una lista delle cose craftabili, dove gli oggetti sono già selezionati in base a cosa bisogna creare. In entrambi i metodi per creare la supercapsula Z-Mix abbiamo bisogno delle seguenti cose. Supercapsula Mix, ottenibile esclusivamente usando il bot multigiocatore, da fondere con il cristallo degli inferi, ottenibile completando le missioni esperto. Il costo della fusione è di 10.000 zeni, ottenibili ovunque giocando un po'. Il secondo metodo per ottenere la supercapsula Z-Mix offline consiste nell'accumulare punti completando le missioni delle sfide crossover, fra Xenoverse e The Breakers in Dragon Ball The Breakers. Compense di queste sfide vengono aggiornate ogni 15 giorni, quindi purtroppo non sempre la supercapsula Z-Mix sarà presente come ricompensa, ma ci teneremo comunque a portare questo metodo. Importante, vi invito ad entrare nel server Discord dedicato a Dragon Ball Xenoverse 2 tramite il link lasciato qui sotto nella descrizione o nei commenti. Cerca giocatori informazioni e rilassati all'interno del server. Buona visione! Per questa guida è tutto, commenta qui sotto qual'altra guida di Dragon Ball Xenoverse 2 possa servirti. Ciao, da IE.